Spesso si sente dire che nell'ambiente teosofico la teoria e il nozionismo prevalgono nettamente sulla pratica. Eppure, se guardiamo con attenzione, in teosofia non mancano assolutamente strumenti per una pratica spirituale seria ed efficace. Uno di questi strumenti è rappresentato dal prezioso libretto donatoci da Elena Petrovna Blavatsky, La Voce del Silenzio, estratto dal libro dei Precetti d'Oro che lei imparò a memoria e tradusse durante la sua permanenza nei monasteri tibetani di Shigansè e l'Asia. Si tratta di un antico testo, realmente esistente, che risale alla più remota antichità, di una lontana saggezza, scritto in caratteri ideografici o in tibetano, su sottili lastre deposte sugli altari dei tempi. Il testo tradotto da HPB è suddiviso in tre frammenti o capitoli. La Voce del Silenzio, I due sentieri, le sette porte. Quest'ultimo frammento descrive il percorso simbolico a tappe o porte della pratica delle paramita o virtù trascendentali. Il suo grande merito è stato quello di portare quest'altissimo insegnamento buddista in quello teosofico. Dunque, le paramita o perfazioni sono un insegnamento buddista, in particolare del buddismo mahayana, che lavora sulle motivazioni e che è destinato all'uso diretto nella vita di ciascuno, da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni e sono qualità che si manifestano in area fisica. Sono azioni virtuose illuminate dalla conoscenza superiore o prasna e trascendono sempre i concetti del sé e dell'altro da sé, sviluppando l'amore che porta ciascuno a superare il livello personale rendendolo libero. Nel dizionario buddista di Philippe Cornu troviamo scritto, senza lo sviluppo della prasna mediante lo studio e la pratica congiunti, non si può parlare di paramita, ma solo di azioni ordinarie. Le paramita risultano infatti dalla visione della bodhicitta assoluta, la vacuità applicata all'azione. Il loro sviluppo accompagna il progredire del bodhisattva lungo i cinque sentieri e le dieci terre, ove gradualmente acquisirà la padronanza di tutte e dieci le paramita. Bodhicitta significa letteralmente spirito o mente del risveglio. Si tratta di un atteggiamento mentale orientato verso il bene altrui, fondato sull'amore e la compassione. A due livelli, assoluto e relativo. A livello assoluto la bodhicitta è realizzare che la natura di tutti i fenomeni è fondamentalmente vuota di esistenza inerente. Sul piano relativo o relazionale è provare compassione nei confronti di tutti gli esseri. Sul piano assoluto la bodhicitta coincide con la realizzazione del non-ego, lo stato libero dal dualismo. Sul piano relativo essa presenta due aspetti, la bodhicitta come aspirazione o motivazione e la bodhicitta pratica o applicata. La bodhicitta come pratica consiste nell'esercitare le sei perfezioni o virtù trascendentali. I bodhisattva sono degli esseri altamente sviluppati che, raggiunta la soglia dell'illuminazione, vi rinunciano per restare nel mondo e aiutare il progredire dell'umanità. Ita significa andato, param significa oltre, letteralmente andare oltre, attraversare l'oceano del samsara. Prima di continuare vorrei soffermarmi sul significato di andare oltre. I tibetani, come i cinesi, hanno dato all'espressione prajnaparamita un significato molto diverso da quello attribuito dai maestri indiani Mahayana, che secondo loro prajnaparamita significa saggezza eccellente, la saggezza più alta, la migliore. Anche se questa traduzione è grammaticalmente giusta, i bitani e i cinesi l'hanno interpretata diversamente e le ragioni che inducono a sostegno della loro interpretazione sono altrettanto valide. Hanno quindi stabilito che paramita non è una sola parola, ma un'espressione composta da oltre oppure dall'altra parte è andare, param e ita. Da parte loro i cinesi traducono paramita con andare alla riva opposta. Sicuramente non tenterò di risolvere una questione che compete ai dotti di lingua sascrita, però si può notare che la tradizione non è sbagliata, non solo, ma che la sua esattezza è convalidata dalle parole di un mantra chiamato mantra della prajnaparamita, che si recita in tutti i paesi in cui è diffuso il buddhismo mahayana, Tibet, Cina, Giappone, Mongolia, eccetera. E dice possiamo notare che mentre nel mantra troviamo la saggezza che va oltre, la traduzione tibetana di prajnaparamita è andare oltre la saggezza. Andare oltre in realtà significa smettere di aggrapparsi alle opinioni, ai concetti che appartengono al mondo dell'illusione. Significa capire che essi hanno un valore puramente relativo, in rapporto ad oggetti che a loro volta hanno un'esistenza puramente relativa, ma che abbiamo torto di ritenere assolutamente inesistenti. Ma l'andare oltre non significa realizzare la meta definitiva. C'è un'antica e famosa parabola buddista della zattera che i maestri raccontavano spesso ai loro allievi. L'avrete sentita già tante volte, però è significativa. Il viaggiatore che incontra un fiume sul cammino si servirà di una zattera per arrivare all'altra sponda, ma una volta raggiunta la riva non si caricherà la zattera sulle spalle per portarsela dietro, l'abbandonerà come un oggetto ormai inutile. Questa zattera rappresenta i diversi metodi, le varie discipline intellettuali o morali che servono per portare all'altra riva coloro che aspirano alla liberazione. Con più della traversata essi non hanno più valore, non hanno alcun rapporto con le condizioni prevalenti sull'altra riva e come la zattera della parabola sono ormai un fardello inutile. E in ogni modo questa altra sponda è solo un'espressione figurata, non è situata in un luogo preciso eppure è dappertutto. L'altra sponda è ciò che si trova oltre tutti i nostri concetti ed è equivalente anche all'andare oltre tutto quello che c'è di più alto. Perché anche la saggezza spirituale è un concetto della nostra mente. È soltanto una zattera che ci serve per attraversare il fiume. La migliore, la più sicura delle zattere sicuramente. Ma la visione ideale ce la fa vedere per quello che è, è un semplice strumento. Quindi non è la meta definitiva, non è la conoscenza, quella con la C maiuscola. L'uomo che ha attraversato il fiume potrà riposarsi per qualche tempo sulla riva raggiunta, ma davanti a lui si estenderà un intero paese da esplorare e quindi l'uomo si alzerà in piedi e continuerà il viaggio verso la liberazione totale. Il passaggio del fiume, l'arrivo all'altra sponda, sono semplicemente tappe del viaggio. Tappe verso quale meta? Non siamo in grado di saperlo. Almeno io non lo so. Al maestro cinese Luzzu viene attribuita questa frase. La nostra vera casa è il paese che non sta da nessuna parte. Per onestà teosofica bisogna dire che è vero che le parametà o perfezioni sono derivate dall'insegnamento diretto del Buddha Sakyamuni e danno in sé il seme della saggezza e amore. Ma il vero e sincero ricercatore le può ritrovare nella parola di Gesù, di Lao Tse, dei vari santi illuminati comparci sulla terra dall'antichità fino ad oggi. Buddha ci parlò di perfezioni. Perfezionamenti nel cammino verso l'altra sponda. Ed è lo stesso che Gesù richiede nella tradizione evangelica. È il passaggio alla terra pura, al regno celeste. Tutte le diverse fedi religiose, nonostante le divergenze filosofiche, hanno un uguale obiettivo. Ogni religione pone l'accento al miglioramento dell'uomo, l'amore e il rispetto per il prossimo, la partecipazione alle sofferenze altrui. Molti secoli dividono il messaggio del Buddha da quello di Gesù, ma come vediamo vi è continuità nei messaggi stessi, che sono un unico messaggio, saggezza, compassione ed amore. Ora prendiamo in esame la voce del silenzio, il frammento delle sette porte. Bene, o studioso, preparati, poiché dovrai progredire da solo. Il maestro non può che indicarti la via. Il sentiero è uno per tutti. I mezzi per raggiungere la meta devono cambiare secondo i pellegrini. Alle vette delle paramita conduci un sentiero ancora più difficile. Tu dovrai aprirti il passo per sette porte, per sette fortezze tenute da potenze crudeli e astute, dalle passioni incarnate, che sono in realtà i nostri attaccamenti, in sintesi la nostra personalità. Veramente potenze crudele e astute, poiché come sappiamo Dio è molto egoista, è molto astuto e ha il terrore di scomparire e si difende continuamente. Sì, o signore, io vedo il sentiero. Il suo piede è nel fango, la sua sommità perduta nella gloriose luce mirvanica. Ed ora io vedo le porte, sempre più strette, lungo la via aspra e spinosa che guida a Ginnana. Benvedi Olanu. Queste porte conducono l'aspirante attraverso le acque all'altra riva. Ognuna si apre con una chiave d'oro e queste chiavi sono 1. Dana, la chiave di carità e amore immortale, ovvero la generosità. 2. Shila, la chiave dell'armonia nella parola e nell'azione, la chiave che equilibra la causa e l'effetto e non lascia più campo all'azione karmica, ovvero la disciplina o etica. 3. Shanti, la dolce pazienza che nulla può turbare, ovvero la pazienza. 4. Vairaya, l'indifferenza al piacere e al dolore, la vittoria sull'illusione, la percezione della sola verità, in altri termini l'impegno. 5. Virya, l'energia indomabile che si fa strada alla verità suprema, fuori dal fango delle menzogne terrestri che si ottiene con la concentrazione meditativa. 6. Dhyani, la cui porta d'oro, una volta aperta, conduce il santo verso il regno dell'atterno sacco e la sua incessante contemplazione, ovvero la conoscenza o prasna. 7. Prasna, la chiave di quella che fa dell'uomo un dio, creando la Bodhisattva, figlio degli anni, la saggezza. Il testo continua. Tali sono le aure e chiavi delle porte. Prima che tu possa avvicinarti all'ultima, o tessitore della tua libertà, devi conquistare lungo il faticoso sentiero queste parametra di perfezione, le vertù trascendentali, 6 e 10 di numero. Ci sono due elenchi di parametra, uno di 6, il più frequente, e l'altro di 10, che corrispondono alle 10 terre del Bodhisattva. Anche se le abbiamo appena elencate, le ricordiamo. Le prime 6 sono la generosità, la disciplina o etica, la pazienza, l'impegno, la concentrazione meditativa, la conoscenza o Prasna. Le ultime 4 sono i mezzi abili, il voto, la forza, la saggezza primordiale. Questa sera ho scelto di prendere in esame le prime 3, perché credo che siano quelle che sono più vicine alla nostra vita e un bel zoccolo duro da superare per poi progredire. Il maestro dice, munito della chiave di carità, di amore e di tenera compassione, tu sei sicuro davanti alla porta di Dana, alla porta che sorge all'inizio del sentiero. Allora Dana, la generosità. Se fai la cosa giusta potrai cambiare il mondo. Punto. Quindi la generosità è la disponibilità di dare agli altri qualunque cosa sia necessaria. Il significato profondo di questa virtù è il dare, offrire, senza aspettarsi niente in cambio. Essere disposti ad accogliere gli altri nel nostro territorio, ad offrire ospitalità e ad apprezzare la loro esistenza e la loro presenza, senza ulteriori richieste. Non è una gentilezza verso chi pensiamo ci sia inferiore, è una bontà naturale che ci appartiene e che fa parte dell'armonia universale, dove la reciproca interdipendenza diventa mutuo sostegno e questo è un insegnamento perenne. Basta osservare la natura. La terra fiorisce grazie a quella che viene chiamata la circolazione senza fine della carità divina. Il vento sparge i semi, il sole fa evaporare il mare, il vento sospinge il vapore sul campo, la pioggia nutre la pianta, la pianta nutre l'animale. Anche le stelle seguono il loro corso grazie a un mutuo interscambio di energia. Nella voce del silenzio leggiamo che prima di oltrepassare la prima porta devi fondere i due nell'uno, sacrificare il sé personale al sé impersonale e così distruggere il sentiero tra i due antacarana. Viene consigliato quindi di separare la mente dal cuore e va inteso con il fatto che la mente inferiore, l'intelletto, la mente spuculativa non deve avere più importanza di quanto possa meritare. Il centro dell'uomo è quello del cuore, ma non si tratta di distruggere quella mente, ma di integrarla, o meglio ancora, la sua fusione, la fusione della mente con il cuore, fondere i due nell'uno appunto. In questo modo il sé personale, la personalità egoistica separata dagli altri, viene sacrificata per un'altra personalità, ovvero individualità cosciente. Solo in questo modo possiamo superare individualismi, il senso di separatività su cui attecchiscono i preconcetti e ogni forma di discriminazione. Il senso di separazione è un'esperienza che tutti gli esseri umani condividono. Ci sono io e poi ci sono gli altri. Ne facciamo esperienza dentro di noi e possiamo riconoscerlo anche negli animali. Riconosciamo che questo è separato da quello, questo corpo è separato da quell'altro e in vari modi cerchiamo di superare tale senso di separazione. Forse la reazione più primitiva consiste nel prendere. Prendiamo dall'ambiente che ci circonda, assorbendo dentro di noi. Prendiamo il nutrimento e prendiamo il potere. Questo prendere è uno dei modi di cercare di affrontare il senso di separazione. Un modo più raffinato di affrontare questa esperienza è quella di fare un patto reciproco, una sorta di accordo. Diamo qualcosa per ricevere qualcosa in cambio. Se gli do tanto, mi aspetto di ricevere in cambio altrettanto. L'uso di queste strutture è forse il modo più comune di relazionarci di uni con gli altri, come esseri umani, facendo acquisti, accordandoci con il padre o con i figli. Ti do questo e tu mi dai quello. Anche questo è un modo di rapportarci quel senso di separazione. C'è poi la condivisione. Si tratta di qualcosa di un po' più aperto. C'è il riconoscimento della separazione di un essere dall'altro e la volontà di condividere. In questo modo, entrambe le parti beneficiano dell'accordo. È affine al contratto, ma è un po' più spazioso. Entrambe le parti si aspettano una qualche gratificazione. Ma tutti questi approcci finiscono per rinforzare il senso di separazione. Quel prendere, quel patteggiare e perfino con il condividere c'è ancora un senso di un essere separato da un altro. Non si riesce veramente a trascendere o andare al di là della nostra separatività. È qui che la generosità manifesta la sua funzione benefica. Con il vero dare, la vera generosità, non ci si aspetta di ricevere niente in cambio. Non è un patto, non è nemmeno una condivisione. Non si tratta di condividere con un altro qualcosa e di tenere per noi qualcos'altro. Diamo totalmente senza aspettarci niente in cambio. Molto del nostro dare non è un dare totale, è un dare imperfetto, ma è qualcosa su cui possiamo lavorare, proprio nella vita di tutti i giorni. Possiamo dare in molti modi, in senso materiale, cibo, riparo, medicine, vestiti, soldi. Possiamo dare tempo, incoraggiamento, gentilezza, sorrisi e amora. Quel che conta non è la quantità o la cosa in sé, è l'atteggiamento di non aspettarsi niente in cambio o di farne oggetto di accordo. Quando diamo in questo modo scopriamo che non c'è possibilità di delusione e nemmeno di paura, né presunzione né arroganza, c'è solo dare. Possiamo riconoscere come atto di gentilezza anche il dare attenzione, prestare attenzione a questo momento senza aspettarsi niente da esso. Ascoltare senza interpretare e non aspettarsi niente in cambio. Dare attenzione durante tutta la nostra vita è un modo di praticare la generosità senza aspettarsi niente in cambio, senza patteggiare né prendere, solo dare. Come avrete notato ho ripetuto molte volte senza aspettarsi niente in cambio, perché non è così semplice, perché in qualche modo ci aspettiamo sempre un ritorno. Sono miei pensieri, magari anche qualcuno può non essere d'accordo. Comunque, questo dare non è compiacente e non reprime. Non va in cerca di niente, né respinge niente. Con tale generosità possiamo scorgere la possibilità di un perfezionamento dell'umanità. La generosità rivela la potenzialità di ogni situazione. Il mondo è pieno di ricchezza spontanea, ma come diceva un saggio, non importa quanto bella sia la musica, non c'è festa se nessuno danza. Se nessuno condivide con gli altri qualcosa di se stesso, non accadrà niente di significativo. Ma questa condizione, che comprende una rinuncia alle abitudini che legano l'individuo, ai normali boesimi quotidiani, è innanzitutto una presa di coscienza maturata consapevolmente e quindi con gioia. La generosità implica un apparente impoverimento e perdita, come quando ci si priva di qualcosa che ci appartiene e che ci accaro. Oggetti, denaro, il proprio tempo, la propria attenzione, i propri affetti, la propria presenza. Dobbiamo imparare a non affrettarci per non aver paura di perdere tempo, diversamente dedicato alle nostre affacendate occupazioni. Dando meno valore al possesso e più alle persone, si trarà un beneficio che non è un vantaggio materiale, ma un rivolgimento interiore in cui si diventa più fluidi, più disponibili. I confini fra noi e gli altri diventano meno drastici e sarà più semplice condividere risorse, emozioni e se stessi. In questo modo il senso di separazione può essere trasceso. Vittorio Hugo diceva che mentre la tasca si svuota, il cuore si riempie. La prima paramita resta in ogni caso la base fondamentale, che viene a capoivolgere la vita come era vissuta in precedenza. Infine si può citare l'offerta, come faceva sempre Renato De Grandis quando presentava le paramita. L'offerta ininterrotta di ogni esperienza quotidiana, fisica, di pensiero o emozionale, sia positiva che negativa. L'offerta viene fatta a qualsiasi divinità in cui uno crede, al sé più alto ed illuminato, in modo da separare continuamente se stessi da ogni esperienza, in modo da realizzare un distacco totale. Vorrei concludere questa prima paramita citando un passaggio dell'Ino alla Carità di San Paolo, tratto dalla prima lettera ai Corinti nel capitolo 13. Vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona a un cembolo che tintina. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare alle montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Qui Paolo dice ciò che si può essere, si può fare e si può avere senza tuttavia non contare nulla. È chiaro che la carità non si identifica con il parlare che incanta, né con una fede che fa prodigi, né con la semplice generosità. Senza la carità non sono nulla. L'assenza di carità annulla ogni azione, si trattasse pure di azioni straordinarie o erotiche. Non sono niente. Senza la carità non si è. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Anche nella voce del silenzio, il maestro dice, prima che tu sia degno di incontrare faccia a faccia il tuo maestro, luce a luce, appunto senza veri. Quando verrà il tempo che si è, praticamente lo stato libero dal dualismo. Il tema generale di questo incomio ne è la carità, ossia all'amore nel suo senso più alto, universale, che non è quello di spontanea inclinazione o simpatia per gli uomini, bensì di volontà deliberata e costante del fare del bene ad essi, anche se immeritevoli e anche con supremo svantaggio personale. La seconda paramita è Shila, disciplina o etica. Shila, termine che significa letteralmente freddo e pacificato o fresco e pacificato, o il raggiungimento della lucidità. Si tratta di un allenamento che consiste nell'imparare a controllare la propria esistenza e di non nuocere a nessuno. Etica o morale significa evitare ogni azione negativa o impura mentale, verbale o fisica. Serve ad avere una giusta relazione con il corpo, una giusta relazione con i sensi e con la mente. Serve a riconoscere la nostra naturale purezza. Ci sono dieci consigli, ciò che è utile e cosa non lo è. Comprendono il corpo, la parola e la mente. Atteggiamenti indotti dalle tendenze egoistiche. Questi dieci consigli sono quattro della parola, mentire, calunniare, insultare, offrire con le parole e chiacchiere inutili. Tre del corpo, uccidere, rubare, causare torti con la sessualità. Tre della mente, bramare, invidiare, la malevolenza e sostenere i punti di vista errati. Uccidere significa prendere la vita. Rubare significa appropriarci di ciò che non ci è stato dato. Causare torti con la sessualità significa violare le relazioni familiari e quindi causare sofferenze con i nostri comportamenti. Ai livelli del corpo, parola e mente, non è difficile capire, così sia utile evitare. Quando le persone si sentono sole, di norma dicono cose che disturbano gli altri. Solitamente mentono con l'intetto di danneggiare gli altri, spargano pettegolezzi, separano gli amici o confondono la gente. Se qualcuno è infelice, svilupperà la tendenza ad avversare gli altri, proverà invidia e permetterà a stati confusionali di prendere piede lentamente. All'opposto stanno le dieci azioni positive del corpo, della parola e della mente, che portano solo felicità e la mente diviene naturalmente chiara e calma. Bisognerebbe usare il proprio corpo come uno strumento per proteggere gli esseri, per dare loro amore e qualunque cosa abbiano bisogno. Le parole di ciascuno, grazie agli odierni mezzi di comunicazione, possono raggiungere un numero maggiore di esseri. Le parole gentili creano piacevoli esperienze. Se le persone ascoltano, parlando con gentilezza e ricevono informazioni chiare, scopriranno il beneficio di dire la verità ogni volta che sia possibile. Eviteranno di dire bugie per danneggiare gli altri o difendere se stessi, realizzando in questo modo la calma interiore. Ed infine cosa fare con la propria mente? La via da percorrere consiste nell'augurare il bene anche ai nostri nemici, nel gioire del bene che gli altri fanno e pensare in modo corretto. Queste qualità ci portano la felicità e la freschezza mentale e farle diventare un'abitudine ci assicura la gioia fino alla libertà. La mente è la cosa più importante di tutti. I pensieri di oggi diventano parole e il giorno dopo azioni. Ogni momento è importante ora. Se si ha la capacità di osservare la mente, niente può restare il proprio progresso. tutto ciò che impariamo deve essere trasformato in pratica dal corpo, dalla parola e dalla mente. Nel buddismo si dice che tutto ciò che esiste è una creazione della mente stessa, non c'è altro creatore che questa. Una mente positiva produrrà cose valide, una mente afflitta produrrà negatività e tutti i fenomeni dell'universo possono essere divisi in queste due categorie di effetti. La terza parametra è Kshanti, la pazienza. Guardati dal tremare, dice il maestro. Sotto il soffio dell'ira, della paura, la chiave di Kshanti arrugginisce e la chiave arrugginita si rifiuta di aprire. La successiva virtù è la pazienza. Veramente queste virtù non si possono dividere in pratiche nettamente separate. Una conduce all'altra, una incarna l'altra e sono un gruppo quasi unico in sé. La pazienza è la capacità di sopportare le difficoltà della vita senza arrabbiarsi o turbarsi. Dice Shantideva nel Bodhisattva Chara Bhattara. Shantideva è un monaco buddista maiana. Per un solo istante di rabbia, qualsiasi azione virtuosa, come venerare il Buddha, la generosità che è stata accumulata in migliaia di eoni, sarà distrutta. In altre parole si può dire, se una persona etica è impaziente, può facilmente arrabbiarsi e perdere in un momento tutti i meriti che ha acquisito comportandosi in modo generoso. Quindi la pazienza è proprio un zoppolo duro da superare. Quando si accumula ricchezza spirituale mediante la generosità e la si dirige con la giusta comprensione, la terza qualità necessaria alla propria via è la pazienza. Il Buddha si occupò in modo particolare di questa virtù e diceva è il vestito più bello e difficile da indossare ma tutti i meriti si svilupperanno nel momento in cui viene indossato. Il Dalai Lama è molto chiaro e molto semplice e dice quando diciamo vedo questa persona e mi nasce la rabbia, l'errore non è in quella persona ma nella nostra mente. Se volessimo eliminare tutti gli oggetti della nostra rabbia il lavoro non avrebbe mai fine. Quindi facciamo prima ad eliminare la collera. Semplice no? Praticare la pazienza non significa essere passivi o evitare situazioni dure e difficili. È piuttosto una forza interiore che rende capaci di affrontare i problemi in maniera positiva. Mette in grado di non perdere di vista la propria meta. Come la si può perdere? Con l'ira. L'ira è l'unico lusso che la mente non può permettersi. Le buone impressioni accumulate in molte vite che costituiscono il capitale della mente e l'unica fonte della felicità permanente possono essere bruciate in un attimo con accessi di rabbia, così come il fuoco distrugge la foresta. Nei versetti di Angelus Silesius, nel libro Il pellegrino Cherubino, Angelus Silesius era un poeta, un mistico e un religioso tedesco. In uno dei versetti c'è scritto a proposito dell'ira. L'ira è un fuoco infernale. Se dentro di sé divampa, profana la culla dove riposa lo spirito. La pazienza trascendentale non attende mai nulla e dato che non attendiamo nulla non diventiamo impazienti. Generalmente però nella nostra vita ci aspettiamo parecchio. Premiamo su noi stessi e questo tipo di azione è basato per la maggior parte sull'impulso. Troviamo qualche cosa di eccitante, di bello e ci spingiamo accanitamente verso di essa e prima o poi siamo ricacciati indietro. Più spingiamo avanti, più siamo ricacciati indietro, perché l'impulso è una potente forza propulsiva ma non è saggezza. L'impazienza non conduce solamente a infiniti guai e litigi, ma rende anche infelici. Tutti noi sappiamo che l'odio e la rabbia sono veramente negativi, ma sappiamo anche quanto difficile sia eliminarli se non cambiamo attitudine mentale. L'odio è la causa di ogni conflitto, di ogni separazione tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra amici, tra gruppi di una stessa nazione, tra le nazioni stesse. Anche se una persona possiede molto, non può essere felice se arrabbia. Possiamo ricavare dalla nostra esperienza come la rabbia porti infelicità. C'è qualcuno tra noi che è contento quando si arrabbia? A chi è in collera non capiterà mai di dire sono felice perché sono arrabbiato. Quindi vediamo che non c'è nessun vantaggio ed utilità nella rabbia, perché in ogni caso non ci fa ottenere ciò che desideriamo. Il buddismo distingue tre tipi diversi di pazienza. La pazienza del perdono, perdono, la pazienza di saper accettare la sofferenza, la pazienza di accettare la realtà dei fatti. L'essenza del perdono è molto importante. Comporta il fatto di essere fermi e positivi nel momento in cui gli altri ci criticano o ci creano problemi. Fino a quando rimaniamo nell'esistenza dualistica, non possiamo pretendere di non incontrare problemi o di non imbatterci in persone che non ci piacciono o in qualcuno che abbia dei risentimenti nei nostri confronti. Bisognerebbe pensare che coloro che ci fanno del male, ci feriscono o semplicemente ci causano problemi, sono nella nostra stessa condizione. Anche noi infatti, spinti dalla paura, dalla tristezza, dai nostri desideri attaccamenti, ci ritroviamo a criticare gli altri. Spettevogliamo e in questo modo collaboriamo a danneggiare, consapevolmente o inconsapevolmente. Tutto questo perché desideriamo la felicità e non vogliamo soffrire. Coloro che ci fanno del male sono nella nostra stessa situazione. Quindi vediamo che non c'è differenza tra sé e il cosiddetto nemico. Per praticare la pazienza abbia bisogno di un nemico. Inoltre i nemici sono molto preziosi perché ci aiutano a vedere le nostre reazioni. Così possiamo imparare, possiamo sviluppare la forza interiore, la determinazione e il coraggio di affrontare i problemi. Se guardiamo da questa prospettiva, il nemico è in effetti molto utile, il miglior amico, il miglior maestro. Con questa comprensione possiamo perdonare facilmente. L'ideogramma cinese per Xanti, pazienza, rappresenta una spada sopra un cuore. Questa raffigurazione evidenzia questa parametra come sopportazione delle difficoltà e questo ci porta al secondo tipo di pazienza, che è il sopportare qualsiasi sofferenza e problema. È un'esperienza molto importante poiché se si affronta negativamente un dolore, esso comporta un'infelicità ancora maggiore. La maniera migliore per sopportare o accettare le difficoltà è considerarle in modo positivo. Permettono di imparare molte lezioni utile per sviluppare l'energia profonda, la forza interiore. Esse aiutano a ridurre l'orgoglio e a comprendere la situazione degli altri. Inoltre, tutti i grandi esseri hanno ottenuto la loro libertà affrontando e superando enormi difficoltà e sofferenza. Infine, la pazienza di accettare la realtà dei fatti, che non significa essere vivi e lasciarsi portare via dagli eventi o essere inerni. Significa accettare che la vita è sofferenza ed è il terreno dove dobbiamo lavorare per poter imparare e trasformare le nostre attitudini mentali. Perché liberarsi non consiste nell'andare da qualche parte, ma nell'essere sempre più ciò che si è, dove si è. Per far questo dobbiamo avere tanta pazienza anche verso noi stessi, perché tutte queste limitazioni sono prodotte da noi attraverso i confini che tendono a difendere un automatismo psicologico di vita e di azione molto stretto. Realizzando questa virtù avremo la pazienza che tollera, ma soprattutto che ama. Dice Shantideva, gli oggetti della nostra intolleranza sono infiniti come lo spazio ed è impossibile soggiogarli tutti, ma se si soggioga soltanto alla propria ira è come se vincessimo tutti i nemici. Eliminando l'odio dalla propria mente, attraverso un cambiamento immessa, ciò equivale alla distruzione di tutti gli ostacoli esterni. Non c'è bellezza nella tristezza, nessun onore nella sofferenza, nessuna crescita nella paura, nessun sollievo nell'odio, è solo un perfetto spreco della felicità. Caterina Stoikova-Klemer è una poetessa burghera. Queste parole mi sono molto piaciute. Dovremmo applicare queste virtù nella vita quotidiana. Non ha molta importanza credere o meno in un dio, nel Buddha o altro. Quello che conta è una buona motivazione, la compassione senza dogmatismo. Solo comprendere che gli altri sono come noi e rispettare i loro diritti e la loro dignità. Il poterci aiutare l'un l'altro è una delle nostre capacità unicamente umane. I grandi saggi spiegano che, per essere eccellenti, le virtù e la loro pratica devono diventare parti integranti del carattere di un individuo. Devono essere inconsce, meccaniche, diventare veri e propri riflessi condizionati. Così soccorrere un essere che soffre deve essere un atto altrettanto spontaneo, altrettanto istintivo, quanto quello di ritirare velocemente la mano se per caso la si appoggia su un oggetto che scoppa. In questo modo si verrà a formare ciò che è detto il corpo formale dell'uomo risvegliato, ovvero il corpo di gioia. Si tratta dei nostri corpi o piani, come le definisce la teosofia, che le paramita con le loro virtù vengono a purificare, ad alterare, a cambiare, vengono a sostituire gli elementi conflittuali che vi si trovano con altri positivi di utilità sia personale che soprattutto collettivo e sociale. La pratica del comportamento superiore, come abbiamo visto, è composto dalla triade di generosità, etica e pazienza che formano un'unità di base. Generosità perché abolisci la povertà, etica perché porta alla disinvoltura, pazienza perché sopporta la durezza della vita. La comprensione di queste parametra induce a praticare quanto è suggerito dal Maa Choa in una sua e unica lettera del 1881. Egli scrive Il vero teosofo è colui che ricerca disinteressatamente i mezzi migliori per far seguire al suo prossimo il buon cammino, conducendo ad approfittarne il maggior numero dei suoi sigli. Lui alludeva alla fratellanza, ma nel senso profondo, vale a dire scoprire e attivare ciò che già siamo nella dimensione spirituale per poterlo manifestare nel quotidiano. Nel percorso evolutivo l'uomo deve realizzare il proprio perfezionamento spirituale, ma la via per raggiungere questo obiettivo non è la via delle parole, è la via dell'azione, che si propredisce unicamente attraverso l'azione. Una pratica condotta personalmente e concretamente nella vita reale, vale a dire per ciò che ci concerne, in seno alla società e a contatto con gli altri. Nella voce del silenzio leggiamo che quando hai oltrepassato la porta di Shanti, la pazienza, il terzo passo è fatto. Il corpo ti è schiavo. Accingiti ora alla quarta, alla porta delle tentazioni che insidono all'uomo interiore. E continua. Prima di poterti avvicinare a questa meta, prima di alzare la mano per togliere il chiavestello nella quarta porta, devi essere diventato padrone di tutti i cambiamenti mentali che sono in te. Devi aver ucciso le legioni delle sensazioni e pensieri che sottili e insidiose si insinuano senza essere chiamati nel brillante santuario dell'anima. Quindi alla quarta porta si presentano le tentazioni che si trovano all'interno dell'uomo. Ma prima di oltrepassare questa porta è indispensabile essere padrone dei cambiamenti mentali, dice, dei pensieri che guidano le sensazioni che si insinuano nella mente non richieste dalla coscienza. Per questo ci vuole impegno e in seguito meditazione concentrativa Beria Pegliana. Grazie.